È evidente che il danno che è stato arrecato, laddove venisse considerata e ritenuta responsabile della diocesi, è un danno abbastanza importante. Basti pensare il figlio Lorenzo che ha perso una mamma e in più Lorenzo sappiamo che ha delle difficoltà, quindi la perdita della mamma è qualcosa in più per lui purtroppo. Un maxi risarcimento da una milione di euro. Questo quanto la famiglia di Guerrina Piscaia è pronta a chiedere alla diocesi di Arezzo. La donna scomparve da Caraffello il primo maggio 2014. Per la sua morte è stato condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione Gratiena Labì, all'epoca dei fatti viceparroco del paese. Il delitto dunque secondo il legale del marito e del figlio della donna sarebbe stato commesso dal religioso mentre svolgeva la sua missione pastorale. C'è un articolo del codice civile che ritiene responsabile i padroni committenti, di conseguenza loro hanno individuato la chiesa dove dovevano svolgere l'attività pastorale tra i frati anche a Labì e di conseguenza si ritiene responsabile perché doveva vigilare e tra l'altro prima del primo di maggio già qualche avvisaglia c'era di qualche comportamento diciamo non proprio appropriato per i frati e di conseguenza per noi è responsabile. Già nel maggio 2019 il legale della famiglia aveva messo in mora la diocesi aretina. L'azione però non ebbe seguito ed adesso la citazione in giudizio. Se si va per le vie giuridiche ci sono gli avvocati. Io voglio bene a tutti, accolgo tutti. Poi dopo quando la questione fosse finita vediamo che cosa ci sarà da dire. Gratiena Labì sta scontando la condanna nel carcere di Re Bibbia dal quale continua a professarsi innocente. Il corpo della donna non è stato mai ritrovato. Il risarcimento è un atto dovuto anche di responsabilità nei confronti del figlio Lorenzo. Però in realtà la cosa più importante è appunto sapere dove si trova in modo tale che Lorenzo, Mirko, tutta la famiglia possa anche portare un fiore o anche versare una lacrima in una tomba.